3 nuove leggendarie 3 nuove carte per un totale di 100.000 CENTOMILA Carte da 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 ben perché col cazzo duro primo pacchetto ed eccolo qua c'è finolabico c'è finolabico per noi c'è finolabico prima puttana leggendaria passiamo al prossimo nuovo bobo abbiamo dell'oro 3 success e andiamo avanti gli spiriti Rir cannone che può essere molto buono e ci abbiamo il culo di drago non male attenzione potrebbe essere eccola il frattone madonna rega voi non capite a singapore è fatto divieto categorico di giocare a gta effect san andreas poiché la trama del gioco è basata sull'occupazione degli stati uniti da parte delle sonde anali menant 2 inizialmente respinto dappertutto nella nostra italia ma anche in germania irlanda nuova germana australesia sud germania sud corea regno italia e tante altre cose brutte la missione di questo gioco è stalkerare uno zombie minorenne infine dopo tanti rinvii è uscito per razzismo fobia in luoghi pubblici a singapore è fatto divieto categorico di giocare a pokemon per via delle relazioni omosessuali che è possibile avere durante il gioco cazzo c'è acqua mamma mia questa bastarda era riuscita a scappare ma l'ho rimessa al suo posto brucia bastardo brucia bastardo e adesso me ne torno in casa porca devo dire parolaccio ma ragazzi sto cosa mi fa imbestialire adesso abbiamo dieci fiaschette estus più tre cosa devo mestiere con qui e ho trasformato la spada spinata che però come vedete mi aumentano lo sciopero della difesa frammento grandi titanidog riduce effetto ferendone e andiamo a vedere cosa ci aspetta si può salire ne scendere ne salire dove cazzo sono i miei soldi michele io ti spacco la faccia io ti rovino michele hai capito dobbiamo buttarci giù dal ponte gigabri ponte abbiamo aperto la scorciatoia che però è una scorciatoia di merda il drop rate goccia di tasso guarda i dettagli miazaki ho deciso di farvi una loli alcune loli non posso farle perché sono di livello troppo basso rispetto alla versione classica ad accoglierci troveremo ciubi poi ci sono i popri potrei mai scegliere una cosa del genere dopo una lunga e attenta scelta scelgono i popri premi w per andare avanti s per andare indietro due ore di gioco per capire solo sta cavolata insomma gente di una certa levatura culturale subito dopo vengo introdotto ad un altro personaggio una ragazzina dotata piccoli trucchetti da lolicon a a a Grazie a tutti.